sì o ma benvenuti benvenuti che sorpresa prego prego accomodatevi accomodatevi benvenuti nel mio studio ciao bentornati a chi è già iscritto a questo canale o benvenuto benvenuta se è la mia volta che ti trovi da queste parti io sono giuseppe su questo canale mi occupo di creazione di contenuti di video making e di attrezzature e anche le attrezzature in realtà parleremo oggi ce n'è veramente tanta qui sarà un video molto interessante e se sei nuovo o nuova da queste parti ti invito già adesso a iscriverti al canale in realtà non so più dov'è in base agli spazi dovrebbe essere la sotto da qualche parte vattene a cercare c'è il pulsante iscriviti al canale attiva la campanella così youtube ti notifica quando pubblico nuovi video allora video particolare non solo perché chiaramente questo è il room tour della stanza ma perché lo stiamo registrando con una telecamera particolare perché stiamo registrando con la istra 360 one rs one inch peraltro con una configurazione con un setup un po particolare perché infatti se vedete io sono microfonato con il mio bel comica wireless e l'audio sta arrivando direttamente in camera ma ve ne parlo fra un pochino ma comunque ringrazio subito istra 360 per aver fornito la camera altra cosa importante non sono solo lì dietro di me alla camera c'è il mio carissimo amico marco che mi sta registrando e in realtà anche c'è il buon edoardo a cui oggi sto facendo una consulenza è un po un training ti scommetto edoardo già hai tante domande che mi vuoi fare vero le vediamo va bene le vediamo fra un attimino e allora partiamo in realtà subito così a bomba col tour perché vi voglio far vedere tutti gli spazi che ci sono allora innanzitutto questa è la scrivania sicuramente la conoscete già e questa è una parte che non vi mostro spessissimo anche se in realtà è uno degli sfondi di anamorfica se vi ricordate cosa principale tutta la stanza è completamente arredata con mobili Ikea perché a noi Ikea ci piace fondamentalmente costa poco e quindi questa qui è una classica vetrinetta Ikea perché a me piace veramente tanto tenere comunque esposte tante robe quindi vetrinetta in cui c'ho collezione mia personalissima di videogiochi gli svettano i due libroni enormi di fallout qua sotto ci sono un po di souvenir li potrei chiamare così che mi son portato dietro da vari viaggi e robe del genere qua abbiamo una collezione di dvd in cui chiaramente c'è anche il buon signore Ionelli altri dvd ordinati in ordine alfabetico perché io sono un maniaco dell'ordine e qua sotto troviamo documenti e cose del genere comunque c'è anche oh mamma mia c'è anche la polvere la polvere ce la teniamo sempre venendo invece a questo spazio qui e sposto la sedia per farvelo vedere la stanza non è grandissima in realtà comunque questa qui si è pure spenta la sony ma adesso non la riaccendiamo questa qui è la scrivania ve ne ho parlato in un video dedicato ve lo lascio linkato qui nelle schede se ve lo volete andare a recuperare in cui appunto vi ho vi ho parlato di della mia postazione da lavoro d'accordo ma ve la riepilogo così velocemente innanzitutto c'è alexa che esattamente è lì e mi gestisce praticamente tutti gli automatismi all'interno di questa stanza tutte le luci e le robe io chiaramente le posso andare a controllare con lei allora zaino io ho una vera passione per gli zaini di attrezzatura questo è solamente uno dei mille zaini adesso ve li faccio vedere dietro questo ci tengo un po di cartoncini che mi servono per foto comunque sono dei fondali quando scatto foto ai prodotti o comunque faccio riprese ai prodotti questo è figo perché questo quadro l'ho fatto io letteralmente nel senso non solo la cornice chiaramente comprata di che è ma proprio la grafica che vedete l'ho realizzata io c'è un il suo fratellino che dall'altro lato adesso vi mostro lampadella tomons e questo io me lo abbraccio sempre il mio a 90 centimetri di ambit full con il fl 80 montato sempre velocemente postazione in cui c'era la sony che stai facendo no signal sony mi sa che hai andati stand by allora sony postazione da video qui nella postazione fissa so come siete abituati normalmente sul a vederli sul canale ea c'è la batteria scarica vedi comunque è per il momento la utilizzo per i classici video in cui mi serve anche fare i tutorial premiere roba del genere comunque mi serve il computer si trasformerà in futuro in una postazione da streaming è probabile probabile qui c'è la faccia di omar non so se omar ve lo ricordate ciao omar saluta sempre video di omar ve lo lascio quale nelle schede sotto invece prego la regia di inquadrare il macello perché in realtà qua sotto ci abbiamo tutto quello che ha a che fare con nelle luci quindi ci sono sia tutte le borse in generale luci pannelli led stativi comunque in generale c'è tutto quello che ha a che fare con l'illuminazione bellissimo piano questo qui che non mi ricordo mai il nome allora di molte delle cose che vi mostro vi lascio assolutamente i link in descrizione se è qualcosa me la dimentico volete una informazione particolare su robe che vedete avete i commenti quindi commentatemi qua sotto 34 pollici o 39 non mi ricordo ma fantastico della dell non lo cambierò mai più perché montare e fare qualsiasi cosa con uno schermo così è veramente spettacolare poi questo è curvo tappetino questo l'ho messo relativamente di recente ma da quando comunque ho fatto il video della postazione della del tab il mio fantastico orologio della umbra il nuovo pc sposto anche la sedia questa è una vecchia sedia ma che mi piace molto l'estetica di questa di questa sedia qua l'ho presa su amazon anzi in realtà questa me l'ha regalata mia moglie il regalo di mia moglie fantastica perché sembra uscita fuori direttamente da una navicella spaziale probabilmente chi è iscritto a questo canale da più tempo se la ricorda bene perché il video non l'ho messo privato non esiste più dicevo computer qua c'è sportellino con cavi la regia fa scopre le mie brutte carte qui ci sono cassetti in cui normalmente tengo sinceramente un po di prego regia di inquadrare sono cancelleria cavi chiavette qua ci sono tutti i miei hard disk con i backup periferiche varie comunque c'è un po' di roba un po di roba spostiamoci va beh qua c'è tutto quello che ha a che fare con la scrivania vi ripeto ci avete il video altro angolino che mi piace veramente tantissimo la mia fantastica parete di ricarica in cui vado a ricaricare tutte le mie bellissime batterie cioè sia quelle della sony sia quelle delle action cam qua è sempre tutto pronto anche di questo vi ho fatto un video dedicato lo lascio sempre qui nelle schede è sempre tutto pronto per poter ricaricare le batterie chiaramente anche le classiche sony fp qui ci sono addirittura due per quelle grosse per quelle un po più piccoline però la verità è che a me piace comunque come vi ho detto esporre la roba quindi ci tengo un sacco di props fondamentalmente di video che faccio non so se vi ricordate la famosissima pistola la maschera di uno dei video che feci in passato comunque c'è un po di roba qua sotto c'ho una semplice stampante perché comunque qualcosa ogni tanto io sinceramente stampo molto poco però qualcosa ogni tanto la stampo quindi stampante il mio fantastico di boom la piccola piccolo televisore manina piacere e poi qua sotto altro scomparto della vergogna perché un po tutto così alla san vaso qui ci sono tutta una serie di attrezzatura fondamentalmente attacchi per l'action cam c'è un po di tutto macchina del fumo qui c'è la scatola dei comica quella grossa quelli UHF comunque qua c'è un'altra attrezzatura lì c'è il liquido per la macchina del fumo ricarica per la stampante c'è un po di roba niente di particolare ma veniamo subito a una parte di cui sono fiero perché questa in realtà è una novità non l'avete mai vista se non forse in base a quando uscirà questo video su videopedia come sfondo questa qui è una nuova cassettiera fantastica di Ikea andatevela a comprare di corsa perché vanno via come il pane perché finalmente mi sono fatto sta postazione perché è una figata innanzitutto ho finalmente tutta l'attrezzatura sistemata bene nei cassetti quindi c'ho le camere tutta qui zona camere qui abbiamo zona action cam vedete c'è un po un po di roba le gopro le istace di tutto qua ci sono batterie altri accessori comunque c'è un sacco di roba è un po messo alla san vaso ma comunque qui abbiamo tutto il reparto audio monitor tutta la cavetteria il transmitter di immagine questo quello della della zi della zi un si comunque c'è leddini pannellini led rgb lo slider c'è un po di roba qui c'è anche l'altro pezzo dello slider comunque un po configurato c'è un microfono qui comunque c'è un po di roba e poi qua sotto il delirio più totale perché qua abbiamo le clamp morsetti attacchi qui ci tengo tutti gli attacchi comunque c'è ci sono i cavalletti gorilla pod c'è tutta un po di roba ma la cosa fighissima vi stavo dicendo che adoro di questo spazio è perché finalmente ho un posto in cui poter montare le lenti quindi senza sbattimenti mi prendo le mie camere che sono nel primo cassetto vado qui se voglio metto una lente che c'ho dentro piuttosto che e ci posso andare a montare quindi ho un banchetto direttamente per la camera una roba poi che posso fare è che ho sistemato di cui vado molto fiero e questa roba qui sono andato a mettere questi spigot da muro con la staffa qui ho messo un paio di magic carme in cui ho un monitor e qui vado sono già piazzato quindi l'ho messo perfettamente centrato rispetto al banchetto vado a stringere qua vado a collegare il monitor alla sony e io posso riprendere dall'alto questo veramente è una roba di cui vado super super fiero perché come vi dicevo posso andare tranquillamente a organizzarmi l'attrezzatura e ho una superficie sempre perfetta in cui andare a organizzare il tutto questo qui è uno scaffale in cui tengo così un po di cimeli in realtà qui c'è la vecchissima yashica di mio papà è in assoluto la primissima fotocamera che io ho mai utilizzato in vita mia ci sono anche le lenti che si portava dietro questo qui è un cosina da 50 millimetri non avete idea della pasta di questo obiettivo è spettacolare qui c'è uno zoom e un po di props che che vengono sempre lì c'è il cappello da da poliziotto da poliziotta da poliziotta e poi qui la mia in realtà è coperto perché non so mai dove mettere il cavalletto con l'anello l'anello di newer lo lascio qui perché non c'ho spazio e dietro in realtà c'è il poster vediamo se riesco a farvelo vedere un po meglio c'è il poster di anamorfica perché chi si fosse collegato da di recente su questo canale non se ne fosse accorto ho fatto un piccolo cortometraggio si chiama anamorfica molto figo che vi lascio sempre linkato qui nelle schede però adesso è arrivato il tempo come vi dicevo di spendere un attimino due parole sul setup che stiamo utilizzando oggi per registrare ovvero la one inch o e veniamo finalmente alla soluzione che sto adottando per registrare il video di oggi ve l'ho detto all'inizio ovviamente la scelta è ricaduta su insta360 one rs one inch che per quanto mi riguarda è perfetta per registrare questa tipologia di contenuti perché vi dicevo in una configurazione un po particolare adesso vi spiego innanzitutto abbiamo qui la nostra bella camera vi faccio vedere doppio sensore da un pollice con doppie lenti laica doppi obiettivi di laica quindi probabilmente in questo momento è la migliore telecamera 360 presente in commercio chiaramente parliamo della fascia consumer rimetto il caps sempre molto apprezzato proteggete sempre le lenti che vi arriva già in confezione quindi lo rimetto su per evitare danni perché vi dicevo configurazione particolare perché sto utilizzando vi lascio ovviamente il link di tutto quello che vedete sotto in descrizione sto utilizzando questa robetta qui che cosa è questa è una staffa che va a montata sul corpo qui della insta360 vi ripeto vi lascio tutto vi arriva anche in descrizione vi arriva anche il nottolino che serve per andare a fissare quest'asta alla camera ovviamente e questa forma che vedete in questo modo non è assolutamente casuale perché perché questa roba qui ci serve a fare la codesta cosa possiamo andare a montare qui sopra questo è un ricevente sono il mio kit chiaramente di microfoni wireless comica ma funziona benissimo anche con quelli rod quindi vi dicevo questo lo prendete e lo andate a mettere qui a clippare in questo modo e attenzione perché vi dicevo la forma non è assolutamente casuale perché come vedete è esattamente tutto in linea alla camera questo significa che quando la camera andrà a fare lo stitching voi non vedrete assolutamente nulla il microfono sparirà e quindi vedrete l'inquadratura pulita ma chiaramente ve ne state accorgendo vedendo benissimo questo video quindi secondo accessorio sempre sotto in descrizione questo qui che altri non è che il piccolo adattatore per il microfono quindi per collegare un microfono esterno ovviamente lo prendete lo andate a clippare in questo modo alla camera a quel punto prendete cavetto output dal ricevitore e l'altro capo ovviamente lo andiamo a collegare qui sulla sull'ingresso microfonico e se mettete anche bene così un pochettino il cavetto come vedete è sempre tutto perfettamente nascosto e non vedrete assolutamente nulla sarà tutto perfettamente poi tagliato fuori dall'inquadratura dopo lo stitching quindi a questo punto andate a prendere questo che il microfono wireless ve lo attaccate un po dove volete e quindi siete pronti a registrare l'audio arriva direttamente in camera e addirittura la videocamera quando ci collegate l'adattatore per il microfono vi darà anche i livelli audio proprio letteralmente sul display quindi roba molto figa per verificare che effettivamente non state clippando la voce ok allora veniamo un po al succo del discorso a chi consiglio questa telecamera oppure per meglio dire partiamo da a chi non consiglio questa telecamera allora se state cercando un action cam pura d'accordo quindi per robe action veramente probabilmente è meglio se vi rivolgete ad altro la camera comunque è pesante ma è fatta per altri scopi e poi chiaramente il prezzo e vi lascio sempre tutto in descrizione andate gli andare una spulciata se siete curiosi ma comunque se il vostro scopo è quello dell'action puro ok probabilmente non è la scelta che fa per voi a chi invece consiglio questa camera beh esattamente per produzioni di questo tipo quindi se dovete fare room tour tour virtuali di musei biblioteche in città perfetta per il vlogging è praticamente come avere un operatore di camera che vi segue sempre e vi ripeto ancora una volta questi due sensori laica vi garantiscono una qualità dell'immagine che è veramente assolutamente superiore quindi questi sono i contesti in cui vi consiglio di utilizzare e di acquistare una telecamera del genere piccolo trucchetto per finire per tirar fuori il massimo vi consiglio di esporre e in questo caso io sto utilizzando sia iso fisso sia tempi fissi scegliete questi parametri in modo tale da esporre da sovra esporre l'immagine di 1 2 stop in questo modo andremo a sfruttare la maggiore gamma dinamica che hanno questi due bei sensori da un pollice e poi chiaramente buttate in post produzione io ovviamente sto registrando in log e poi andate a tirar fuori veramente il massimo da una telecamera del genere questa è la configurazione di oggi e adesso vi lascio al proseguo del tour figa la guanice comunque proseguendo allora abbiamo qui un'altra figata qui innanzitutto c'è il mio fantastico c stand qui ci tengo montato il 60 centimetri sempre di ambit full lfl 80 rgb prego regia di arrivarci da sopra da da sopra esattamente ci arriviamo da sopra c'è anche il climatizzatore ma ci se ne frega comunque tutto qua perfettamente montato collegato a batteria perché non c'è sbattimento di cavi comunque c'è un po' di roba poi proseguendo regia vieni vieni con me vieni con me qui abbiamo i miei fantastici monopattini sono entrambi qui perché in realtà non ho spazio a casa dove tenerli quindi ti tengo qua mi piace tanto questo grande finestrone perché prego regia fare una panoramica un po' più ampia mi piace tanto questo finestrone perché con queste tendine che ho messo sempre di chea praticamente è una sorta di softbox naturale mi piace tantissimo la luce naturale quindi quando posso la sfrutto più che posso appunto scusate il gioco di parole e altro allora i softbox qui ce n'è un macello ce n'è un altro anzi regia facciamolo vedere facciamolo vedere ce n'è un altro andiamo in alto regia andiamo in alto con la camera in alto in alto in alto facciamo vedere questo softbox esattamente che è messo là sopra collegato a questo a questa staffa sempre della newware questo qui è il gemello vieni in regia è il gemello di questo qua in realtà sta situazione dovrebbe essere pseudo temporanea perché sì che questo dovrebbe essere a 5006 e anche gli altri sono messi a 5006 ma la verità è che questi qua sono cinesi e fanno schifo e quindi non è vero che sono a 5006 comunque lasciamo perdere digressioni mie qui abbiamo il mio reparto della gioia reparto della gioia è talmente tanta gioia che io lo metto sotto chiave come vedete c'è un bel lucchetto ve ne ho parlato in un video ragazzi è chiaro sono anni che faccio video su sto canale di ogni pezzo di questa stanza c'è un video dedicato vi lascio sempre nelle schede se volete andatevi a spulciare che cosa è questa cosa ma è la mia collezione è caduto Recon è caduto Recon dobbiamo assolutamente salvare Recon da una morte certa se mi ricordo la combinazione però è anche vero che è questo il bello della diretta quindi salviamo Recon che è caduto Recon vieni qui se qualcuno si sta chiedendo ma questo è scemo che ferma la registrazione per prendere un pupazzo voi non avete idea di con chi avete a che fare oh allora abbiamo salvato Recon e gli dicevo no veramente questa è la mia vetrinetta della mia personalissima collezione di Gashpond di Dragon Ball questa roba sotto è figa prego Regimo veniva un po' più sotto perché con questa piantina Ikea sono andato a nascondere tutta sta roba di cavi con anche questa roba qui questa scatolina che ho preso sempre che ho preso su Amazon è molto figa perché qua dentro ci sono tutti i cavi perfettamente nascosti e come vedete tutto è perfettamente pulito poi zona non lo so relax mi chiedo qua e penso normalmente poi le idee non vengono esattamente così più quando sono al bagno ma comunque e poi felpa di YouTube veramente mi do le pacche sulla spalla da solo per aver cambiato il nome del canale prima che YouTube mi mandasse grazie YouTube la felpa personalizzata con il nome del canale perché altrimenti prima sarebbe stato uno schifo H. Pepigno E.K.A. Pepigno dico male il mio stesso nome figuriamoci figuratevi a che punto sono E.K.A. Pepigno molto più figo comunque qua ci sono i classici di boom e un cimelio di guerra in realtà funziona nel senso dovrebbe volare non lo faccio volare da sette anni da un sacco di tempo c'è la Hero 3 buttata qua lo tengo così perché mi piace comunque sporre la roba questo è un vecchio ricordo di Pantelleria con questa bellissima mendusina preso per un po' un po' così di lato mobiletto in cui vi dicevo qui c'è vabbè c'è il macello perché c'ho tutti i miei zaini di attrezzatura c'ho anche i fondali e stessa cosa da questo lato vi dicevo che ho un problema con gli zaini infatti è il motivo per cui non accetto più zaini dei brand perché non ho collezionati talmente tanti nel tempo che non ho più spazio quindi è tutto zaino attrezzatura fondali qui c'è il robo per fare girare i prodotti col green screen comunque c'è un sacco di roba lasciamo stare mobiletto e ultimo ma per non meno importante qua c'è il tubo led che vedete come sfondo quando faccio i video nella postazione fissa e per ultimo a me piace stampare i poster dei miei film dei miei corti mettiamola così quindi ho fatto stampare anche quello di Grand Theft Mother Venice City ovviamente with lista 360 go2 perché l'ho registrato tutto con la go2 sempre ve lo lascio qui nelle schede queste schede sono piene di video non so se ce ne vanno 5 non lo so se riuscirò a metterli tutti giriamo perché questa è la roba poraccia della stanza sta cosa dovrebbero sparire queste porte fanno schifo non ve le voglio far vedere e niente quindi fondamentalmente questo è il room tour del posto in cui trascorro tutte le mie giornate grazie mille per avermi accompagnato vi ricordo ancora una volta che avete i commenti se volete informazioni su qualsiasi cosa guardate la descrizione perché comunque qualche link utile ve lo lascio anche della one inch non ho idea di come sta riprendendo adesso andremo a vedere che cosa abbiamo combinato niente grazie mille per aver guardato i ragazzi vi salutano lì Marco e qui Edoardo vi salutano vi ringrazio dicevo ancora una volta ringrazio lista 360 mi raccomando cose fondamentali like a questo video condividetelo se siete nuovi da queste parti là in fondo da qualche parte c'è il pulsante per iscrivervi attivate la campanella così non vi perdete i nuovi video seguitemi sui social vi lascio nelle grafiche sotto in descrizione c'è pure tiktok proprio sto buttando contenuti a buffo soprattutto sui social verticali quindi andatemi a cercare un po' in giro e vi do appuntamento al prossimo video ciao